Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il video con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre per traffico intenso ma in direzione Roma, code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In FIPILI in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina e per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze per i cantieri della linea 2 della tramvia, restringimento di carreggiata in via di Novoli da via Tacchinardi a via Demidoff per effettuare le sistemazioni urbanistiche definitive. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!